Come si mette la palla sotto Edo? Perché la tecnica è questa, si prende la palla, si sposta l'amaca, si mette la palla sotto Edo e poi si riporta al centro, ok? In questo modo la palla è al centro, Edo sta al sole, com'è questo sole meraviglioso Edo? Bello, bello proprio, ok? E il trattamento è un trattamento oscillatorio base, ok? Questo è proprio bello, la palla, la palla e l'amaca, uffia, un binomio perfetto Siamo in giardino A casa tua dove vuoi mettere? Sì, sì Poi dopo ti regalerò il libro che è scritto, che si chiama? Amaca Sutra in giardino di Cinzia E la lavatrice E la lavatrice E la lavatrice Quella è da tu moglie Simona fai la lavatrice Simona fai la lavatrice Poi la chiamo subito La mia moglie è tutto registrato e quindi sapete che lei me l'ha suggerito Sì, sono io Se succede qualcosa a mia moglie è colpa di Cinzia Sì Sono l'alatrice Sono l'alatrice Sono l'alatrice Non l'ho mai fatto, sono l'alatrice Mentre c'è il tipo Lei dice che è divertente, lei è solo l'alatrice Però Allora Si impone tutto il libro Comunque C'è un'espansione di ripresione Lui Lui la cosa Ecco La cosa che sento prima di tutto è Prendi i polpacci dietro e tiro Prendi i polpacci dietro e tiro Ma dove ce l'ha fatto? Ok Ma ieri non l'ha fatta Così No Così No 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 Grazie.